Le basi del disegno sono importanti e prima di andare a ricercare a fondo queste basi e come cominciare a fare esercizi, a migliorare la mano, è necessario assolutamente avere un contatto con il mezzo e sapere che noi dobbiamo dialogare con il mezzo che abbiamo davanti e abbiamo fra le mani soprattutto. Quindi che si tratti di matita o di penna la cosa fondamentale è instaurare un dialogo fra il nostro cervello e la nostra mano, cioè riuscire ad avere una confidenza tale per comprendere quale sarebbe il percorso migliore da fare per arrivare ad una meta che noi ci siamo prefissati. Quindi questo video è più che un tutorial una riflessione, una riflessione sul modo in cui noi ci possiamo approcciare al mondo del disegno. Le basi del disegno partono dalla proprio sensazione tattile della matita fra le mani e la sensazione del segno che noi lasciamo sul foglio, qualsiasi foglio con qualsiasi mezzo. Questo incontro tra la mano che prende il mezzo e il mezzo che si posa sul foglio è fondamentale e noi lì sentiamo come primo approccio come possiamo entrare in relazione con questo momento e quindi da lì in poi muovere i primi passi nel disegno. È un video che può essere semplice e scarno ma invece racchiude un segreto che secondo me è importante andare a scoprire dentro noi stessi. Io mi ricordo al liceo quando mi posi davanti a questo foglio grande e io a casa lavoravo con fogli abbastanza piccoli. Dapprima ci fu uno senso di smarrimento perché la pagina perché il foglio è veramente grande, ma poi la concentrazione è andate a finire proprio in quel punto, nel punto dove io posavo la matita e mi dicevano di fare determinate cose. Io le facevo queste cose, io facevo cosa mi dicevano loro, ma se mi avessero spiegato, se mi avessero parlato dell'attenzione che avrei dovuto porre, questo dialogo serrato che doveva esserci tra il mio pensiero e l'azione della mano, sarebbe diventata quasi una pratica meditativa e sicuramente ne avrei tratto più beneficio. L'ho compreso più avanti quando ho sperimentato, cercato di capire cosa potevo farne degli strumenti che avevo con me. Prima di lasciarvi alla visione del video vi chiedo di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace, di condividere il video se vi è piaciuto e commentare come fate sotto la descrizione. Vi ringrazio moltissimo per le visualizzazioni e soprattutto per l'iscrizione al canale e vi auguro una buona giornata e a presto. Mi è stata fatta una domanda in un commento se io potevo dare dei suggerimenti a come poter far dialogare meglio il cervello con la matita. Strano questo commento, però molto appropriato, perché il disegno non è altro che un dialogo veramente serrato fra il nostro cervello e la nostra mano, fra ciò che intende fare la nostra mano, perché è il nostro cervello che glielo chiede. La mano ha bisogno di essere allenata e quindi è ovvio che lo strumento che lascia il segno che noi usiamo prima di tutti e che usiamo più frequentemente è o la penna e o la matita. È ovvio che quando si disegna è bene iniziare ad usare la matita, ma non perché la penna sia meno nobile, perché la matita dà proprio la possibilità di avere una sensazione forte di dialogo fra il mezzo che noi impugniamo per disegnare e il foglio che abbiamo sottostante. Quindi il foglio è bianco e noi non sappiamo se sarà bello, se ci piacerà disegnare oppure no. E il primo segno che si fa su un foglio è generalmente fatto proprio per sentire il foglio, però non si è mai abbastanza concentrati per questo ascolto. Quindi io direi che è sì un divertimento piacevole e sì una bellissima sensazione, però ascoltare l'impatto della matita con il foglio e vedere com'è che si può fare a rendere più efficace o più vicino a quelle che sono le nostre possibilità, si fa solo con la pratica, perché allo stesso modo come la mano deve impratichersi, anche il cervello deve entrare nella forma mentale adatta a dar degli stimoli alla mano, degli ordini, ma deve sapere che ordini dare, che ordini impartire. Io partirei essenzialmente da dei segni semplici. Se noi tracciamo un puntino, poi ne tracciamo un altro qua e diciamo la mano di congiungerli, la mano lo farà. Se diciamo di congiungerli in maniera più lieve, cerchiamo di tenere la matita più sollevata dal foglio e avremo meno impatto sul foglio. Se invece diciamo la mano di fare più pressione, la mano farà più pressione e la linea sarà inevitabilmente più scura. Qua abbiamo già capito che noi possiamo utilizzare un mezzo che ci dà la possibilità di avere varie tonalità che magari potremo sfruttare quando quando ce ne verrà l'occasione e quando impareremo a capire perché lo dovremo fare. Quindi il fatto di fare dei punti, poi di unirli in questo modo qua è una pratica per iniziare veramente ad avere un dialogo con il foglio e la matita e la nostra mano. Secondo me è importante, è proprio la base, la prima cosa che è necessario fare e che io vi consiglio di fare soprattutto a chi non ha a chi non ha mai usato una matita. Non l'ha mai usata avendo coscienza di usarla per voler vedere che cosa può. Vedete io posso fare le linee leggermente arcuate oppure le dritte. Se io decido di fare le dritte, io muovo il polso in questo modo, il mio cervello farà uno sforzo di concentrazione molto grande perché dovrò ruotare la mano e praticamente io devo ruotare la mano in questo senso qua, però ovviamente devo dire al mio cervello che deve proseguire diritto, infatti quindi io dovrò ruotare la mano però dovrò tenere questo più largo. Se io ruoto la mano in questo modo qua, non vado a congiungermi con questo, allora io devo dire al mio cervello a un certo punto di allargarsi per riuscire ad arrivare fino qua. Se noi prendiamo una una parte più più grande, vediamo che la matita fa questo o questo segno perché è proprio l'arco che farebbe anche se io avessi gli occhi chiusi, ma se io devo andare da qui a qua, devo fare lo sforzo praticamente di aggiustare la linea che deve andare da un punto all'altro e allora devo dire al mio cervello come la mano si deve muovere. Vedete che questa linea è ancora incerta, quindi io ho bisogno di fare un ulteriore sforzo. Quindi prima fare delle linee in questo modo, poi fare delle linee in quest'altro modo, in modo che io debba fare uno sforzo in più, cioè debba praticamente ruotare, non ruotare il polso, ma tenerlo fermo allontanandolo in modo da fare una linea completamente dritta. Queste qua sono le piccole prime basi del disegno. Quando io ero al liceo e mi dicevano fai delle righe, ma non mi spiegavano perché dovevo fare delle righe, io non capivo il significato di questo. Mi avessero detto che il dialogo che dovevo avere col foglio era fondamentale, perché dovevo sentire la mia mano, dovevo capire in che terreno poteva muoversi, allora sarebbe stato fondamentale. Questi si potrebbero definire dei balbetti, dei piccoli balbetti, perché sono proprio i primi passi che si devono fare. Poi ci sono altri esercizi che da qui possono arrivare e che possono aiutare a capire come il cervello può porsi nei confronti della mano e può aiutarla. E la mano può aiutare il cervello a fargli capire, a dargli degli stimoli per dire guarda io sto imparando, quindi tu cerca di andare piano, cerca di venirmi incontro e di capire che io sto imparando, quindi non pretendere troppo da me. Ad esempio questa è una linea grossa, questa è una linea sottile, questa è una linea grossa e questa è una linea sottile. La mattita è fatta in questo modo qui, molto spesso ed ha una punta che può essere utilizzata sia in questo spessore, che è utilizzata solo nella punta. Quindi noi possiamo fare questo esercizio. È un esercizio che non è che ci aiuta, non è che ci insegna a disegnare, ma è un esercizio che ci aiuta ad avere un dialogo con la matita, a capire quello che posso fare io con la matita. Quindi conseguentemente io dovrò cercare di migliorare il dialogo tra me e il mio cervello, costringendo il cervello a un'azione di questo tipo. Io devo fare tante righe parallele a questa, più parallele che sia possibile. Questo mi occorrerà uno sforzo, mi occorrerà un impegno, una dedizione. Non è un disegno da mostrare gli amici, non è qualcosa di cui posso trarne vanto, è qualcosa di fondamentale. Un dialogo con l'infinito desiderio mio di disegnare e quindi di arrivare alla comprensione della possibilità di ottenere un vantaggio da un dialogo proficuo che c'è dentro di me, che è la mia passione per raggiungere un risultato. Quindi questo è un esercizio che io consiglio di fare. Quello che voglio dire con questo piccolo video è che qualsiasi cosa voi facciate con la matita o con la penna, deve essere sempre conseguente a una meditazione su ciò che fate e quello che fate diventa lui stesso, apre a voi la capacità di comprendervi e di scoprirvi anche. Ad esempio, possono essere più lunghe queste linee, quando abbiamo preso un po' più di confidenza ed è difficile, molto difficile farle parallele, molto difficile. Anche perché poi questo serve, serve quando noi andiamo a stabilire una linea, perché se noi metti che facciamo una linea di questo tipo, questo qua potrebbe essere un esercizio successivo, poi questa linea dovrà diventare curva, allora io dovrò attraversare questi punti in modo da fargli fare una curva alla linea. Poi questa curva può avere, può avere anche un altro tipo di conduzione, può essere condotta in questo modo, ma questo definisce un'insicurezza. Se io comincio a disegnare così, in questo modo qua, non va bene, è molto meglio che io mi impratichisca a fare tanti piccoli tratti, così, perché devo vedere a che punto riesco a spingermi nella lunghezza di un tratto e poi saranno così, poi saranno ancora più lunghi, saranno ancora più lunghi ancora e ancora di più, finché io aprirò tutta la mano, per arrivare al termine della rotazione del polso. Le lezioni che mi hanno fatto la volta scorsa sul tratteggio non sono che il termine di un approccio, il termine di una, di un percorso che si va alla ricerca del segno. Adesso se noi prendiamo la penna, con la penna abbiamo meno possibilità di sfumare ed è ancora più difficile poter fare una riga sottile, perché se io praticamente per fare una riga sottile basta che appoggi la matita in questo modo, la matita la fa, vedete com'è sottilissima questa linea, è sottilissima che quasi non riesco a farvela vedere, molto sottile, allora cosa accade, accade che con la penna io ho bisogno di avere una leggerezza nella mano che che non può prescindere da un ammellamento sistematico con la matita, cioè se io non faccio questo non riuscirò a fare questo, quindi è importante come da un punto di vista calligrafico, e la calligrafia aiuta molto a stabilire questo dialogo, perché le regole sono molto ferree, qui non lo sono, non sono ferree, però sono fondamentali, perché siamo noi che dobbiamo andare alla ricerca di queste regole, siamo noi che dobbiamo comprendere come queste regole possono diventare tali perché ci permettono a noi di conoscere la possibilità che in quel momento abbiamo di operare sul foglio, è inutile che io prenda una fotografia e cerchi di copiarla, se il mio segno è incerto, io non imparo a disegnare copiando una fotografia, io imparo a disegnare cercando di inventare una linea laddove non c'è, e dov'è che una linea non c'è? Nella natura, non ci sono linee, siamo noi che determiniamo le linee, se io ho davanti a me un oggetto e cerco con la matita di copiarlo, io cosa faccio? Prendo questo oggetto e lo strutturo in modo tale che i suoi contorni sono determinati da delle linee che invento io e per inventarle io queste linee devo essere capace ad avere la possibilità di capire quali linee posso girare e più sono capace di avere una di avere una consapevolezza nel mio mezzo e più quello che farò sarà più ampio, il mio agire sarà più ampio, le possibilità che ho saranno più ampie, saprò andare in territori scoscesi oppure in territori piani e quindi questo si farà solo con esercizio. Allora dopo che noi abbiamo fatto tutto questo esercizio qui, tutto questo esercizio in cui cerchiamo di capire quando la nostra mano può essere, può seguire il polso, può seguire il cervello nei suoi movimenti, quali movimenti è capace di fare, divertitevi proprio nel foglio anche a creare in grovigli di linee che più o meno hanno hanno una ragione di esistere in quanto sono deciso da voi in quel momento. Ecco solo in quel momento voi allora potete cominciare a capire di fare degli esercizi più divertenti da un certo punto di vista come possono essere quelli sul tratteggio. Quindi attraverso questa esperienza sul segno voi potrete capire qual è la strada che vi può condurre alla possibilità sempre maggiore di riuscire a compiere i gesti che il vostro cervello vi ordina di compiere e questo può avvenire come avete visto solo nell'esercizio. Molti di voi mi chiedono anche come faccio a sfumare con la penna e in qualche modo nonostante i limiti della camera l'ho cercato di farlo vedere in qualche video ma miglioreremo ancora per quanto riguarda le riprese ma è fondamentale prima di passare alla penna cercare di farlo con la matita e quando voi avrete passato le esperienze del segno e comincerete veramente ad andare in profondità e a scoprire quali sono tutte le possibilità infinite che abbiamo noi di lasciare l'impronta sulla carta scoprirete due cose prima di tutto che è fondamentale la durezza o la morbidezza della mina e quindi lo spessore o meno della punta anche di una penna ma soprattutto della grana del foglio che è fondamentale per qualsiasi vostro disegno quindi la scelta dei materiali che piano piano insieme noi andiamo a vedere però se io non avessi iniziato a sfumare con la matita non sarei mai riuscito a fare quello che posso accontentarmi di riuscire a fare con la penna spero che il video sia stato informativo e utile e non dimenticatevi di non porre mai limiti all'esercizio e alle ore di disegno perché nessuna di loro neanche un secondo è mai sprecato e quindi buona giornata e buon disegno a tutti e a tutte a presto un momento vi chiedo di iscrivervi al canale e di indicarmi sotto nei commenti quali sono i video che gradite di più e quali video vorreste vedere già lo avete fatto ma se continuate mi date grandissimi suggerimenti e bellissime suggestioni ancora un arrivederci a presto